Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di... Ah, ho tre, ho il TS, allora... Sì, speriamo... Ma c'è uno scudo o qualcosa, tutto brillucicoso... Allora, vediamo un pochino... Ehm... Esattamente, dove devo andare? Di qua... Scusate... Ok, allora, vediamo un po'... Eh, devo andare di... Di lì, di su, di... Non so dove devo andare, perché mi sei... Di qua, ecco... A posto... Oh, salve... Non vedo nessuno... Mettiamo un soppiatto... C'è pointer, quando mai? Vediamo se qui c'è qualche bomba... Quella torretta! Buck, la torretta ci blocca, non possiamo avanzare! Che cambio, rilassata... Ehm... Adesso ci faccio fuori tutto... Toh... Ecco qua... Poi... Ma è mancata di... Di brutto un po' che l'ho mancata... Ecco qua... Poi... Non vedo nessuno... Non vedo nessuno... Eh... Non voglio rischiare... Vabbè... Questa è andata... Poi... Però questi non li prendo, perché... Mi costa troppo farlo... Però... Con questo... Non c'è problema... Allora... Ce ne sono tre, li ho visti di grossi, eh... E quindi sarà bello, divertente... Però... Non voglio... Assolutamente... Ok... Perdere tempo... Con calma... Andarci... Grazie... Piano... Tac... Ok... E adesso cambiamo... Perfettico... Però ce n'è un altro... E non l'abbiamo visto... Tac... Perfetto... Andiamo... No... Adesso ci vado con calma... C'è un altro, eh... L'ho visto... Eh sì... Mi dispiace... Ok... Ok... Data... Benissimo... Beh dai... Il fucile da cecchino è un'altra cosa... Diciamocelo... Altri... Andiamo un po'... Eh... Quelli non posso farci niente... Non posso usare qualcosa... Perché... Beh... Forse posso... Dobbiamo vederci... Però non ci viene un cazzo... Vediamo un po'... Tac... Poi... Tac... Ecco qua... Quello era l'ultimo... Andiamo capitano... Arrivo... Arrivo... Esattamente... La strada costiera... La via più veloce per lasciare la città... Quella cosa non può andare più veloce... Questi spari... Ha paura... Vuoi che gli dia una spintarella? Eh... Secondo te? Era solo un'idea... Adesso ho capito... Quei cosi... Che ho sempre ucciso... Perché davano uno scudo... Ce li danno anche io su loro... Ho capito... C'erano 70 anni... Insomma... Quindi abbiamo uno scudo in più... Ok... Sembrerebbe che dobbiamo andare qua... Però non sono sicuro... Sì... Da questa parte... Dovrebbe esserci un ascensore... Eh dai... Sciu sciu... Ce la facciamo... Calma... L'alieno deve dare energia all'interruttore... Ah... Ok... Benissimo... Oh... Finalmente ci dobbiamo andare da questa parte... Lavora... Fatto... Bravo... Ok... Forza recluta... Fa' una cosa o fa' un'altra... Insomma... Ah... Ok... Oh... Quando è successo? Poco prima che scendessi sotto terra... Perché non me l'hai detto prima? Oh... Scusa... Mi era un po' occupato... Ad assicurarmi che il nostro amichetto... Non ci facesse saltare in aria... Eddie Buck... Non sei cambiato... Ragioni sempre con le armi eh? Io? Senti chi parla... Tu e quei misteriosi oni... Non sai nemmeno rispondermi con un sì o con un no... Non è giusto... Ah... Concordo in pieno... Pensavo di non rivederti mai più... Davvero? Beh... Eccomi qui... Muoviamoci... Ora... Eri troppo occupato per pianificare una fuga... Ho preso un Phantom, cara mia... L'ho nascosto nei cantieri lungo l'autostrada... Ma ho spazio solo per due... Quindi... Dovrei prendere in braccio quel coso... L'Engineer... Dov'è andato? Ah beh... Copritemi... Ma che cazzo... E non restate indietro... Vuoi un consiglio? Se devi innamorarti... Assicurati che sia tosta... Se proprio devi eh... Se no... Insomma... Eh vabbè... Ok... Ma no... Era meglio che... Sì e sparare... Non è proprio il massimo eh... Se devo proprio guidare... Può andare a piedi recluta... Sali sul Warthog... Sì... Dammi un secondo... Che capisco come fare... Cioè... Sto spingendo eh... Però insomma... Infatti vediamo... Magari c'è qualcosa... Che mi sfugge... Se io sali sci... E re sci... Re b... Così... Niente... Se me lo dai da spingere... E mezz'ora che spingo... Allora... Ci deve essere qualcosa... Che lo vedo... Mettiti al volante soldato... Dobbiamo sbregarci... Eh... Trovarlo... Niente ancora... Ecco... Grazie eh... Ma lei è stato proprio gentile... Mi ha aspettato molto... È un po' troppo caos... Ecco... L'Engineer sta combinando qualcosa... Con i circuiti di controllo... Ehi... Attento con quell'affare... Adi... Posso correre... Dimmi che stai scherzando... Sto facendo del mio meglio... Cerca di non intralciarci... Oh cazzo... Ah... Lo sapevo io che... Mi prendevano me... Oh... 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 Ma sono nella merda... Ok... Ecco fatto... Si va... No... Questo non posso tenerlo... Però questo è meglio... Quindi... No... Era l'altro... Era... No... Non lo so... Vabbè andiamo... Tanto... Insomma... Cosa potrà mai succedere? Eh... Vabbè... Ok... Andiamo di qua... Oh cazzo... Se avessi avuto un'altra arma... Vabbè un po' preferito... Ok... A male che ci sono solo peschi... Se no... Che so... Che so... Viene o male... Facendo tutti i centri... Ok... Un attimo... Ok... Lo sto prendendo... Ma... Proprio malo... Ok... Perfettico... Bene... Sembra che non ci caghi... No più di tanto... Non è così... Aspettate... C'era qui... Ah no... Ce l'avevo... Oddio... Quasi quasi... No dai... Siamo arrivati... Velo male... Posso salire... Per pietà... Come lo dà da salire? È brutto e cattivo... Che cazzo rola... Che cazzo rola... Wow... Che cos'è successo? Penso che... L'engineer abbia potenziato... Lo scudo interiato corrente... Alla blindatura interna... Non so quanto siano... Robusti gli scudi... Siamo vicini... Non ti preoccupare... Ti vogliamo... Eh... Sì certo... No... Questa... È sempre la stessa... Lasciamolo andare... Ok... Adesso siamo tutti qua... Veloce Baccia... Mi fa piacere... Ok... Già mi sento più sicuro... Eh... Ok... Magari un medic pack... Se lo trovassi... Eccolo qui... Lo cercherò... Sì sì... È bravo... Cerca qui... Oh cavoli... Cavolo l'ho ucciso... Ma... Ci danno... Ci danno... Carità... Non è che... Mi faccia schifo la cosa... Però... Ciò... C'è incredibile... Che l'abbiamo depotenziata... Così tardi... Quest'arma... Velisico... Diamo un po'... Oh cavolo... Che vedo brutte cose... Eh... Un attico va... Eh... Non voglio... Sprecarlo... Ecco qua... Altri... Mettiti alla guida... Segui il camion dei rifiuti... Un attimo... Eh... Perché io... Ti sto salvando il culo... Qui... Ok... Ti ho salvato il culo... No... No... Non li vedo... Cazzo... Sì... Questa... Grazie... 43 è un po' poco... Però eh... Non mi puoi dare un po' di più... No... Cazzo... Vabbè... Meglio di niente... Questi... In arrivo... Si potessi... Ok... Cazzo... Vabbè... Cazzo... 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 Vanno al cratere della frattura iper spaziale... Allo scavo Covenant... A nord della città... Ok... Cazzo... Vado a prenderlo... Eh... Che cazzo... Però... Si nasconde... Nooo... Eh... Non è facile eh... Prendermi questo... Più... Si connette un taggiù... Porca la vacca... Con dritto... Eh... Vediamo se trovo un po' di medipack... Cerco di andare un po' zigzag... Magari... Ok... Là c'è un medipack... Ok... Sto tenendo di botte... Eccoci qua... Oh... Ma sono sempre loro? Qualche pare si... E' perchè non ho tanti proiettili... Sono volentieri... Eh... Che cazzo... Una... E' due... Vabbè... E' pure... C'è... E' anche il cazzo di tiro... Di parolacce... Va bene... Andiamo avanti... Purtroppo... Fuggire secchino... Quello è... E non ne ho trovati altri... O se li ho trovati... Non li ho proprio visti... Vediamo se qui c'è qualcosa... Magari... No... Non c'è... Ma vedi i balsi? Che è? Che è? Non vedo... Chi è che sta... Sparando? Ora cosa facciamo? Non riuscivo a vederlo eh... Continuo a non vederlo... Chi è stato quello stronzo... Ok... Guarda che forse ce la faccio... Ok... Ma cosa ho preso? Forse ce l'ho fatta... Oh... Ho evitato i danni... Vediamo vederla su... Che cacchio fare adesso... Guarda lì che casino... Poccosina... Occhio appesi... Oddio... Meno male dai... Eh lo so... Non so come evitare adesso... Vediamo se riesco a trovare... Uno scamotage... Per prenderli da sopra... Un po' con quest'arma... Faccio poco... L'altro non mi ricordo dove l'ho trovata... Recruta occhi aperti... Il capitano è nei guai... Ok... Grazie soldati... Gli scudi sono a posto... Non so... Non so... Troppo dove sia... Allora... Andiamo di qua... Dai corriamo il cazzo... E qui non si può correre... Però... Posso salire sopra magari... Eh... Forse era un'idea eh... Oh... Cazzarola... Vediamo se... Gli scoprendeli... Se avessi mutato l'altra arma... Gli esseri mangiati... Eh... Non riesco a tentare... Ok... C'è una... Tre... Fatto... Oddio... Oh... Checkpoint... Ce l'aveva fatta... L'aveva fatta su un film... Va bene... Vediamo come va... Non c'è uno dei fornitori di armi... Mi sembra di aver visto qualcosa... Ho sbagliato... Vero? Se... Vabbè... Vediamo un po'... Qui armi non ne vedo... Vedi tutti sono a posto... Vedo laggiù che c'è gente... Adesso... Vedrò anche da loro... Dove... Vabbè... Ok... Nel tema... Mi ha toccato... Ma risposto... Qui c'è questa... Non mi piace... Questa è sempre quella... Vabbè... Ok... Vabbè... Va... Va... no 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 si 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 toto toto no no certamente ti stai sbagliando ok benissimo beh così è facile ci detti non lo avessi preso mezza volta ora non mi sfuggirai ah si 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 vuoi fare il lavoro al posto mio qualcuno si muove ancora ne ha meno di 77 accidenti oh dimmi che ne è un bel po' 41 è una merda però meglio di niente ok oh mi piace la cosa se potessi sparare io mi piacerebbe ancora di più vieni vieni guida te che io qua perfetto stai guidando? ma che cazzo ma cioè ma è proprio deficiente questo dai non ci posso credere vabbè quindi ci ho poi superato adesso io devo mettere in posizione scendere e andare dietro in arrivo vant off eh ok 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 vai vai non so se c'è vivo da qui però un po' così la fa non so se è un'idea buona che ho avuto però almeno ho fatto un checkpoint diciamo così qui c'è un altro ma figurati ok ho preso male? si proprio male male ok un attimo ok bene così è morto si lo so ci sono eh lo vedo è tutta facendo un bel sabito c'è occhio a dove? ehi un wortog con torretta caos cambiamo veicolo ah sono di città e ti fido eh come prima un soldato tu guidi io sparo si è visto si è proprio visto ci denti e te mamma mia siamo proprio a posto vai spara dico per quanto spari oh ditemi che non sto sogliendo occhio eh io mi vien da ridere eh dai vado a investire questo caos mi hai investito adesso sto attento a un medipax lo trovo dovresti sparare certo tutto ecco ti sa perché mi fido di più di più di questo io quando vuoi o ti spacco tu lo so vieni qua vieni cavacca ti porti di quello che piussassi ah sono morto che bello si ma se dovevo sparare io perché lui non è buono dai vediamo se ce la faccio abbiamo una privata qualcosa del genere non dove sta venendo niente dai fai andare a me bravo ok vediamo se c'è qualcuno qua qui qua aperto direi che è molto meglio la compite ok è così decisamente meglio cazzo lo sparano di merda loro ok mettiti là e rimani lì non ti muovere te mi raccomando perfetto vai perfetto ok adesso è decisamente meglio cosa dite va al lavoro vabbè ragazzi direi che ci possiamo anche affermare qui questo video è tutto vi vedete come solito le sono un arco vi vedete come se mi piace le salite fammi sapere questo video è impensato e per adesso vedo la spazio ciao 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 ciao